Abuduala Lanzari, leader della fazione ISIS occupante la penisola di Sinai, è stato ucciso dall'esercito egiziano, assieme a 45 membri dello stesso gruppo terroristico. La notizia è stata diffusa ieri da funzionari egiziani e confermata anche da media occidentali come Fox News. Secondo la CIA, la branca egiziana dell'ISIS era sospettata di aver piazzato una bomba nell'aeropasseggiare russo dell'ottobre scorso, in cui morirono 224 persone. Ma Al Alanzari e i suoi avevano portato avanti numerosi attentati, sia contro civili che contro funzionali di pulizia e dell'ONU. Portavano la loro firma gli attentati di novembre scorso presso un hotel nel nord del Sinai, in cui morirono 7 persone e presso il resort di Urcada a marzo di quest'anno, ma anche quello del gennaio dell'anno scorso nel Sinai, dove morirono 26 persone del personale di sicurezza. L'esercito egiziano ha definito quella di ieri un'accurata operazione di intelligence. Lo spettro della recessione incombe dopo Brexit. La Bank of England ha ridotto i tassi di interesse allo 0,25%, i minimi storici mai successi nei suoi 322 anni di vita. La decisione avrà un pesante impatto sui piccoli risparmiatori. La banca prevede inoltre un drammatico aumento della disoccupazione entro il 2018. Intanto Goldman Sachs e JP Morgan, entrambe finanziatrici della campagna di Remain, minacciano contro misure. Goldman Sachs, che impiega 6.000 persone in Gran Bretagna, ha annunciato ieri. Brexit potrebbe condizionare negativamente il modo in cui operiamo alcuni business nell'Unione e potrebbe costringerci ad operazioni di ristrutturazione. È solo l'ultimo di una serie di chiari segnali provenienti dalle banche americane, che stanno seriamente progettando di spostare i propri centri operativi da Londra. In un'intervista al Sole 24 Ore del mese scorso, il capo della JP Morgan, che impiega 16.000 persone nel Regno Unito, aveva dichiarato che la condizione cruciale è mantenere il Passport Rule, un sistema che permette a Londra di operare liberamente con le controparti europee. Nel frattempo Ford minaccia aumenti dei prezzi e la chiusura di molte fabbriche nel Regno Unito. Meno di 24 ore prima della cerimonia d'apertura, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato sul suo sito web che saranno 271 sugli originali 389 gli atleti russi a partecipare all'edizione di Rio. Gli sportivi ammessi sono quelli che hanno superato i rigidi criteri dei testi imposti. La Commissione aveva rigettato le richieste di bannare per intero gli atleti russi. Tuttavia, l'intero team di atletica leggera è stato bannato in seguito alla decisione della Federazione Internazionale di Atletica, che ha escluso solamente gli atleti che hanno vissuto e che si sono allenati all'estero negli ultimi tre anni. Infuriato è il professor McLaren, l'autore del famoso rapporto sul presunto doping di stato degli atleti, che ha scatenato il caso. McLaren dichiara di avere tutte le prove, ma di non averle mostrate perché le indagini sono ancora in corso. Dice il professore Alice Cashmore della Aston University. La VADA, agenzia mondiale antidoping, ha mancato i propri doveri, affidandosi alle sole parole di un informatore, invece di testare gli atleti come da suo compito.